Musica 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 Ciao a tutti ragazzi Siamo Reby e Molly E Angela Ma c'è anche Angela qua che ci sta già ascoltando Ciao Angela non ascoltarci Stiamo rigiocando Angela perchè il video vi è piaciuto tantissimo E ci avete mandato Ci avete scritto qua sotto nei commenti Un sacco Angela Angela Oh mamma mia mi fa paura Mi fa paura Non riesco a guardarla Angela silenzio Angela silenzio Silenzio Cos'è che mi ha detto? Si è arrabbiata Comunque sia ci avete dato un sacco di consigli Ad esempio di parlarle in inglese E oggi lo faremo ovviamente Bisogna mettere prima Prima dobbiamo pulirla Cioè guarda qua è diventata grigia Era bianca questo gattino Ci penso io Bravo Guarda la stai accaressando e non chiude gli occhi Non chiude gli occhi non gli piacciono le mie carezze Aspetta andiamola a lavare Guarda la lavora Buonissimo Ah che schifo Dai ma che schifo Questi denti sono schifosi Angela ma cosa hai mangiato Ok spazzola Aspetta mentre spazzolo guarda gli occhi Guarda gli occhi guarda Non vedo niente Vedo un gran riflesso però Sì infatti c'è un sacco di riflesso Ah adesso si che sono bianchi quei denti Sì vogliamo i dentelli Vai ok a posto a posto a posto Lo pulisco bene perchè faccio una pusa Basta che a posto Basta a posto Basta Laviamo tutto Ok va lavata perchè guarda non abbiamo combinato niente Adesso Va lavata la Ok lavala in sapona Con la saponetta Oh è tornata bianca Guarda si vede un pezzo di occhio Eh ho capito Agli occhi Rebby anche lei poverina un gatto Sì ma io la spio perchè lei ci spia La papera La papera Mettigela Mettigela Hai visto che ha cambiato forma la papera Ancora Cambia, cambia forma la papera Aspetta Cosa fa Cambia forma la papera Eh Vai 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 ancora Ok va bene È tornata come prima Ha fatto così come mai Hai visto Aspetta insapoliamo Hai visto che ci ha fatto tipo così come per dire Si diceva di spostarci Spostati Andiamo Non è che non ti vede bene dalla telecamera Teniamo un po' il telefono così Dammela a me dammela a me voglio fare io voglio fare io Ciao Angela Si è felice Sei felice Aspetta ma la papera perché non possiamo dargliela? Carezzala qua Mamma mia fa paurissima Che versi Allora ok Aspetta deve mangiare Allora Oh livello Siamo a livello 2 Siamo a livello 2 ragazzi Allora Tom ci avete detto che non si può arrivare al 100 E con Angela E con Angela boh scriveteci Le trecce guarda Nooo È inquietante È inquietantissima No 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 Abbiamo un sacco di monete Guardiamo come possiamo farla Perché magari se la facciamo un po' più carina Magari No Oh Bionda No comunque i capelli sono ancora più inquietanti I capelli sono inquietanti Ma che belli questi No no niente 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 capelli Niente capelli No no niente capelli E gli occhi vestitini Oh gratis Questo no Oh questo è bellino Non mi piaceva No No Vediamo Vediamo gli occhi Aspetta Vai Oh il padolino Occhi blu Perché ti fa cambiare Aspetta Aspetta Ok occhi verdi Gli vuoi Gli cambiamo gli occhi No 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 Non cambiamogli gli occhi Oh Occhi da bambola È inquietante È inquietantissima Occhi da angelo Mmm Non abbiamo i soldi Occhi da anime Mamma mia fanno paura Guarda gli occhi rossi No no Andiamo via Andiamo via Perché è bloccato con gli occhi rossi È bloccato ma è gratis No non lo voglio guardare C'è qualcosa che non torna Allora guardiamo tipo le scarpe Pantofole Dai delle pantofoline No Io non prenderei niente No mamma come Ecco diamole da mamma Latte e biscotti Mmm Mmm Brava Brava Bravamente Guarda Molly Abbiamo 5 messaggi Va bene Chi ci avrà scritto Allora Vediamo aspetta Leggiamo bene Riuscirai a segnare 100 1064 punti nei minigiochi Ma ci state sfidando eh Quest'app ci sta sfidando ragazzi Marebbi e Molly Sono più formi Compro una figurina a un prezzo fantastico Invece 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 Stavo leggendo Porca miseria Fammi farmi Allora Ok andiamo a comprare Andiamo a comprare Biberon Oh Questi Allora te li prendi solo le schifette Ok Te li prendi solo le schifette Allora Voglio comprare qualcosa Allora Le fragole Fragole Le frutte No basta basta Costa di più la frutta Angela per favore mangia il brodino di fragola per favore eh Livello 3 Ok Questi livelli avanzano troppo velocemente per i miei gusti Guarda a livello 5 abbiamo un sacco di cose 5 nuove figurine Moda fai da te E occhiali da sola a forma di cuore Moda fai da te Voglio vedere Dai io voglio un vestitino ragazzi Ma questi vestitini sono Quello è da damaschio Quale? Questo è da maschio Completo da donna da fare Donna da fare Sì donna da fare Vabbè Così bellina Guarda facevi i cuoricini Andiamoci un po' di spremura Deve Rebby mi stai sul cavolo Oh Eh ma deve fare Cos'è che deve fare Perché questo è così Eh la devi lavare Vedi che c'è Oh Ma dai Che schifo Asciughiamo Puliamo Puliamo i dentini Strofina 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 i dentini I denti saranno più bellini dei dentini Ok Adesso è pulita dai Vediamo cosa deve fare Ecco Così guarda Gli dobbiamo fare un po' di Un giochino Un giochino No non aumenta la percentuale E come aumenta la percentuale Però i giochi Ok Palluccine Palluccine scoppiettanti Ok vediamo Sono troppo stanca Sono troppo stanca per giocare Ma come No non sei sacca Adesso si gioca allo stesso Dolci Spezza No è troppo stanca dice Vabbè usiamo una possione No 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 Scoppia Si Vai Si Ah è facile questo gioco Scoppia Scoppia Livello 1 Ok fin qui Oh Scoppia scoppia tutti Wow Scoppia scoppia tutti Bomba 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 Tocca per attivare Si Allora Angela copia i giochi a tom Si infatti sono tutti uguali questi giochi Vai 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 Scoppia scoppia lì Si La bomba la bomba la bomba La bomba E ma esplosso Posso fare un po' io fai solo te Si La voglio fare anch'io Aspetta guarda 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 qua siamo tutti vicini Vai 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 Aspetta guarda qua siamo tutti vicini Aspetta guarda qua siamo tutti vicini Vai 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 Si E vai verde Dobbiamo prendere un sacco Vai Della bomba Vai Rebi allora quanti secondi hai Dai 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 Non lo so se ne ancora se ne ancora vai 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 Dici che ne ho ancora Noo Noo Adesso tocca a me 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 Sì abbiamo ottenuto 11 monetto 11 wow Adesso cosa facciamo Allora livello 4 saliamo un po' troppo velocemente eh Infatti si Oh E' cresciuta Bimba piccola Eeeh Si è una bimba piccola adesso Abbiamo due regali 59 figurine frutta e verdura E' ora che mangia Si andiamo Peperoni Cocco 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 No che schifo Cocomero Frutta Cocomero Ma no ma quante cose hai preso che non si servono Allora deve un po' ballare No questo è onda usa per un giorno usa gratis che cos'è Eeeh Siiii guarda com'è felice Così Ehi Vai 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 E' felice 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 Siiii ok mi sa che ha malato abbastanza dai No no balla ancora Eeeh ma non sta ballando Eeeh 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 Vediamo Ma non ha ballato niente Mettiamo la musica Così balla vedi vai Ma mi fai fare a me eh Non devi cliccare quelli Devi guarda fare così Ma io sono brava a ballare Tu non sei capace Ma non devi fare quelli Ha già finito Uuuuh Brava Vabbè al cento per cento Allora Vediamo il carrello Guarda Guarda Voglio un vestitino Mmm Non mi piacciono comunque Sono più belli quelli di Tom I vestiti sono un po' più bruttini eh Andiamo Ma sono tutti bloccati quelli più belli Eh infatti No non mi piacciono Questo è carino Labbra No Il trucco Dai dai il trucco Il trucco Puoi ottenere guarda Eh ma No gliel'hai già dato quello Ah gliel'hai già dato Questi sono bloccati Prova a cliccare Questo Compra le figurine Compra 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 Salvami i soldi Compra le figurine Ehhhh 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 Allora facciamo così Il lucidalabbra No aspetta LUCIDALABBRA LUCI DALABBRA LUCIDALABBRA 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 Aspetta Magari con sti soldini lì del gioco Facciamo così aspetta Questi sono tutti pieni Cioè Angela ma sei cara eh Angela Sei cara Angela AHHHHH Fammi fare un attimo Che stai andando in green Ma non possiamo comprare niente Magari con dei soldini Con un video ti da quelli Angela Ufff Molle ma no 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 basta Guarda che negli occhi Si sta arrabbiando Basta Allora io direi che Per oggi Angela Abbiamo dato Si Per oggi Facciamo una bella foto Andiamo I filtri possono Bla 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 Foto Si Gatta la foto Yee Ok Ma non è che ce la sta facendo a noi vero Ma non lo so Non ci fare la foto In tal caso ragazzi Da noi Niente foto Oh salva foto Si Comunque da noi è tutto Si vediamo Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao